Ciao, io sono Alessandro, consulente alla vendita SEAT persini per la sede di Porto Gruaro. Oggi voglio portarti con me a scoprire la nuova SEAT ATECA. Nata nel 2016, SEAT con ATECA è entrata nel mondo dei SUV, più precisamente nel mondo dei crossover. Oggi, nel 2020, vediamo SEAT ATECA con una nuova faccia. Ma cos'è cambiato in SEAT ATECA? SEAT ATECA è cambiata frontalmente, con la nuova calandra e il nuovo disegno del gruppo ottico anteriore. Qui la vediamo nell'allestimento EXPERIENCE, dove il carattere off-road e l'eleganza contraddistinguono questa nuova SEAT ATECA. Nell'allestimento EXPERIENCE SEAT ATECA esce già di serie con i cerchi da 18 pollici, che in questa configurazione sono da 19, i profili delle porte argento-satinati. Ma SEAT ATECA non è cambiata solo anteriormente, è cambiata anche posteriormente, con il paraurti ridisegnato, i gruppi ottici posteriori con freccia dinamica. La firma ATECA. Vieni con me a scoprire internamente com'è cambiata la SEAT ATECA. Qui troviamo nell'allestimento EXPERIENCE un sedile in pelle e microfibra. In questo caso, il sedile conducente è stato equipaggiato con regolazione elettrica e tre memorie differenti. Inoltre, in SEAT ATECA è cambiato anche lo sterzo, con comandi più intuitivi, più semplici. Qui, in questo allestimento, troviamo anche il riscaldamento del volante. Nella parte centrale troviamo il nuovo display da 9,2 pollici, che integra anche il SEAT CONNECT e il navigatore 3D. Inoltre, nell'allestimento EXPERIENCE che stiamo provando oggi, abbiamo il selettore modalità di guida di serie in questa versione, che in questo caso, avendo il 4-Drive, la trazione integrale di SEAT, aggiunge altre due modalità, OFF-ROAD e SNOW. Non da meno sono stati aggiornati anche i nuovi sistemi di sicurezza, come il CRUIS CONTROL ADATTIVO, oppure il BLIND SPOT ASSIST, che garantisce sempre la visione dell'angolo cieco, facendo illuminare una spia apposta nello specchietto retrovisore star. Inoltre, in SEAT ATECA potrai trovare anche il LANE ASSIST, uno strumento utile e comodo in caso di distrazione o di colpo di sonno, dove la tua SEAT ATECA rimarrà sempre al centro corsia. Un comodo aiuto, soprattutto nelle manovre o nei percorsi OFF-ROAD della telecamera a 360 gradi, che ti aiuta sempre a sapere dove metti le tue ruote. Inoltre, su SEAT ATECA potrai avere la base di ricarica wireless per ricaricare il tuo cellulare. Sono state inoltre aggiunte le prese USB di tipo C, che permettono ai dispositivi di essere caricati in maniera più veloce. Inoltre, SEAT ATECA è disponibile in altri allestimenti, quali il REFERENCE, il BUSINESS o l'FM. E conta anche su numerose motorizzazioni, quale il 1000 TSI, benzina da 115 CV, oppure il 1500 TSI, un sistema ACT, che arriva da 150 CV fino a 190 CV, abbinato a un cambio DSG, 4 ruote motrici. Per quanto riguarda il diesel, troviamo il 2150 CV, anche esso abbinato o a un cambio manuale, oppure a un cambio DSG. Inoltre, è possibile avere la 2150 CV TDI, con il 4 ruote motrici, denominato 4DRIVE. Ti aspetto a Portogruaro, o nella sede di Fiume Veneto, per vedere e provare la nuova SEAT ATECA. Grazie a tutti, grazie a tutti.